Musica Primo giorno di scuola del nuovo corso, quello che prevede l'obbligo delle vaccinazioni per i bimbi dei nidi e delle materne. Due casi di bambini respinti perché non in regola, uno in un istituto di Via Goldoni a Milano e un altro a Sesto San Giovanni. L'assessore regionale Gallera stamane ha firmato il decreto che concede 40 giorni ai medici lombardi per provare a convincere i genitori più reticenti prima di far scattare le sanzioni di legge. Un uomo di 50 anni ha accoltellato l'ex compagna e poi si è barricato nel suo appartamento minacciando di suicidarsi. È stato provvidenziale l'intervento del comandante della polizia locale Marco Ciacci che dopo una trattativa di oltre due ore ha evitato il peggio bloccando l'uomo in extremis. La donna, trentenne, è stata operata d'urgenza e sarebbe fuori pericolo. Questo pomeriggio un nuovo blitz delle forze dell'ordine nell'area della stazione centrale. I controlli sono durati circa un'ora e mezza e hanno interessato una sessantina di persone tra migranti e clochard. 20 di loro sono stati accompagnati in questura per essere identificate. Ancora cronaca, sono stati arrestati i cinque componenti della banda che venerdì scorso ha cercato di rapinare una ditta di spedizioni a settimo milanese sparando anche un colpo d'arma da fuoco. L'operazione è stata portata a termine dalla squadra mobile di Milano. Buonasera a tutti, bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telenova e con il TGN. Primo giorno di scuola del nuovo corso, quello in cui sono obbligatori per nidi e scuole dell'infanzia le vaccinazioni. 19 sono i bambini che a Milano sono stati respinti all'ingresso dei loro, dei rispettivi istituti sui 33 mila che si sono iscritti appunto a nidi e scuole dell'infanzia perché non in regola con l'obbligo di legge sulle vaccinazioni. Altri 30 non sono stati neppure accompagnati dai genitori proprio perché mancano i certificati e quindi sarebbero rimasti fuori. Bisogna capire se sono intenzionati o meno a regolarizzare la posizione dei figli. Un caso in particolare ha fatto rumore proprio perché è stato il primo a essere segnalato, quello della scuola materna in Via Goldoni. Poi anche a Sesto San Giovanni è venuto fuori che un bambino è rimasto all'esterno della scuola proprio per mancanza delle vaccinazioni. Di questo caso, quello di Via Goldoni in particolare, ci parla nel servizio Carreras, Alberto Carreras, che ci dà conto anche delle riflessioni su questo argomento da parte del vice sindaco e assessore all'educazione del Comune di Milano. Anna Scavuzzo, sentiamo il servizio. A Milano sono circa 3.300 i bambini dei nidi e delle materne che ancora non sono stati vaccinati sulla base delle prescrizioni di legge. Ricordiamo che ieri era l'ultimo giorno disponibile prima dell'odierno inizio dell'anno scolastico. Nel numero ovviamente ci sono famiglie che non hanno ancora presentato i documenti e altre che non vogliono sottoporre i figli ai vaccini. Stamane alla scuola materna di Via Goldoni la preside non ha consentito l'ingresso a una bambina che non era stata vaccinata e ha invitato i genitori a riportarla a casa. I genitori hanno chiamato i carabinieri che hanno solo potuto prendere atto della situazione. Alla fine la bambina non è entrata, la coppia potrà sporgere denuncia. Il 90% delle famiglie, secondo dati della regione, ha provveduto a far vaccinare o a prenotare le vaccinazioni per i figli. Resta un 10%, appunto circa 3.300 bambini non ancora in regola. Secondo il Comune però c'è da considerare che molte famiglie non hanno ancora fatto rientro dalle vacanze. La vice sindaco Anna Scavuzzo ha lanciato un appello alle famiglie che non si sono messe in regola a tenere i figli a casa per evitare inutili discussioni e litigi con i dirigenti scolastici. Come noto la legge prevede che i bambini non possano entrare a scuola sino a quando i genitori non invieranno tutta la documentazione richiesta relativa alle 10 vaccinazioni considerate obbligatorie. Il ministro Beatrice Lorenzina ha detto oggi che non c'è alcun caos. La legge è stata chiarita in tutti gli aspetti. Alcune famiglie, contrarie ai vaccini obbligatori, hanno presentato denuncia nei confronti di tre istituti scolastici per violazione della privacy. La polizia locale di presidio alle scuole è stata allertata ma l'obiettivo è quello di non alzare la possibile tensione con i comitati no vax che si oppongono a tutte le vaccinazioni. La vice sindaco Scavuzzo ha detto di essere favorevole a incontrare in comune i genitori contrari ai vaccini. Ci sono luoghi di discussione appropriati che non sono davanti alle scuole. Durante vari colloqui è anche emerso che molte famiglie erano totalmente disinformate. Nel pomeriggio poi una nota è arrivata da Palazzo Lombardia dall'assessore alla sanità e alla salute del welfare soprattutto della regione Giulio Gallera. Quello che è accaduto questa mattina a Milano e Sesto San Giovanni con l'intervento delle forze dell'ordine chiamate a impedire l'ingresso a scuola di quei due bambini di cui si sapeva prima del comunicato del comune che ha detto che sono 19 quelli, lo ricordiamo, che sono rimasti fuori oggi primo giorno da nidi e scuole dell'infanzia perché non vaccinati. Questo, quello che è accaduto a Milano e Sesto San Giovanni è proprio ciò che avremmo voluto evitare, dice Gallera, scrive Gallera, con il nostro percorso formale di recupero dell'inadempimento. Proprio questa mattina, riferisce l'assessore, abbiamo firmato il decreto che formalizza tale percorso per convincere coloro che non hanno consegnato, nel termine fissato che ricordiamo era ieri, la documentazione richiesta sulla legge sui vaccini. Un provvedimento che consentirà ai nostri medici di tentare di convincere entro 40 giorni, 10 sono invece concessi alle scuole per inviare elenchi nominativi alle ATS, i genitori più retticenti a ricredersi e a consentire alle vaccinazioni. In caso contrario, coerentemente con l'obiettivo della legge, scrive e conclude Gallera, che a aumentare la copertura vaccinale avvieremo le procedure per la segnalazione e la sanzione. E oggi appunto è stato il primo giorno di scuola, via alle lezioni per 360.000 studenti nell'area metropolitana milanese. Come sempre, numerosi problemi. Il servizio. La scuola ricomincia, i problemi come sempre non mancano. Oggi, tra Milano e provincia, sono tornati sui banchi quasi 362.000 studenti. Molti istituti sono strapieni con classi di 30 alunni, come al Liceo Artistico Brera o all'Istituto Tecnico Molinari. Alcuni presidi hanno chiesto al provveditorato di poter sdoppiare alcune classi con troppi studenti. I costi però si fanno sentire e i permessi vengono concessi con parsimonia. Intanto sono 3.300 le cattedre ancora vuote. Di queste, ben 1.671 riguardano docenti di sostegno che si devono occupare di 12.000 ragazzi diversamente abili. Solo nelle scuole primarie ne mancano 735 e ben 927 alle medie. I professori scarseggiano un po' in tutte le scuole di ogni ordine e grado. In particolare mancano docenti di italiano, matematica e lingue straniere. C'è grande attesa per tutti quei professori messi da poco in ruolo, che però devono accettare la destinazione. Quelli che non accetteranno verranno sostituiti da supplenti, ma le graduatorie non sono ancora state completate. Per le nuove chiamate, hanno fatto sapere dal provveditorato, si procederà a partire dal 14 o 15 settembre. Secondo molti presidi il rischio è quello di dover chiamare insegnanti sulla base delle vecchie graduatorie. Bisognerebbe invece anticipare tutte le procedure, dalle iscrizioni all'assegnazione degli organici. Secondo alcuni dirigenti scolastici, le scuole dovrebbero ottenere una delega per il reclutamento degli insegnanti con norme chiare e definite per tutti. Stamane a Cormano, nella scuola elementare primo maggio, un'intera classe, la quinta B, non è entrata per protesta contro quelle che i genitori hanno definito gravi inadempienze dell'istituto scolastico. I bambini in quattro anni hanno cambiato otto volte la maestra principale con una miriade di supplenti con programmi interrotti e ritardi nell'apprendimento. C'è poi la questione degli edifici scolastici vecchi con problemi ai tetti, agli infissi. Mancano adeguamenti degli impianti elettrici e antincendio. Per le superiori di Milano e province è stato calcolato che ci vorrebbero 300 milioni di euro per i necessari interventi. L'ampia pagina della cronaca adesso che si apre con la vicenda dell'uomo di 50 anni che ha accoltellato questa mattina l'ex compagna rumena di 30 anni nel suo appartamento in Viale Ungheria a Milano e poi si è barricato per alcune ore nella propria abitazione in Via Mecenate minacciando di uccidersi. Il neocomandante della polizia locale, Marco Ciacci, assieme a due agenti è riuscito a bloccare l'aggressore dopo una trattativa che è durata quasi due ore. L'allarme è scattato alle 9.40 quando il custode del palazzo dove vive la rumena ha chiesto aiuto a due vigili di quartiere per l'aggressione. La donna, ferita da una coltellata all'addome, è riuscita a fare il nome di chi l'aveva colpita prima di essere trasportata al policlinico per un'operazione d'urgenza. E' in prognosi riservata ma sarebbe fuori pericolo. Il movente invece sarebbe la fine di questa relazione conclusasi poco prima dell'estate, una conclusione mai digerita dal cinquantenne. L'uomo ha tra l'altro piccoli precedenti. Ascoltiamo adesso un breve stralcio del racconto di quanto accaduto che il comandante Ciacci ha condiviso con i giornalisti in una conferenza stampa questo pomeriggio. Presente anche l'assessore Carmela Rozza che ha voluto porre l'accento su quanto fatto dai vigili di quartiere già protagonisti in queste settimane di altri interventi, soprattutto nel quartiere San Siro. Ascoltiamoli entrambi. Siamo entrati nell'appartamento e abbiamo iniziato questa lunga conversazione con questa persona, che nel frattempo si era messa davanti al ballatoio del terrazzo, pronta a gettarsi di sotto, ci teneva distanza perché ovviamente qualunque tentativo avvicinarlo manifestava volontà evidente di buttarsi dal balcone al quarto piano dove tra l'altro era impossibile in quel momento mettere dei presidi per la sua salvaguardia, per la sua salute. Ci preva sottolineare quanto è stato fondamentale il ruolo dei vigili di quartiere, che spesso viene licenziato come l'immaginetta pubblicitaria, non stiamo parlando di immaginetta pubblicitaria, diventa un pezzo pregiato della polizia locale, perché diventa il punto vero di snodo del tentare di dare assistenza e polizia di prossimità. Ci spostiamo adesso nell'area della stazione centrale dove questo pomeriggio è stato effettuato un nuovo controllo massiccio. L'operazione è stata diretta dal vice dirigente del commissariato Garibaldi Venezia, Luca Gazzilli, che si è avvalso di personale della questura di Milano con equipaggi delle volanti, con l'impiego di unità cinofile antidroga e di equipaggi del reparto prevenzione crimine. Presente anche personale della polizia scientifica, della DIGOS, della squadra mobile e dell'ufficio immigrazione. Per esigenze di ordine e sicurezza sono stati impiegati equipaggi dei reparti mobili, dell'arma dei carabinieri e della guardia di finanza. La polfer ha poi provveduto ai medesimi controlli all'interno della stazione. Interessati per i servizi di competenza la polizia locale di Milano, il servizio sanitario del 118 e perfino l'ATM. Il tutto è durato un'ora e mezza. Sono stati controllati una sessantina tra migranti e alcuni senza tetto, che sostavano in piazzale Duca d'Aosta. Al termine del controllo, 20 persone sono state accompagnate in questura per essere identificate. Cinque rapinatori sono stati arrestati oggi dagli agenti della squadra mobile di Milano. Uno degli arrestati ha esploso addirittura un colpo di pistola lo scorso 8 settembre, venerdì scorso, nel corso di un tentativo di rapina ai danni di una ditta di spedizioni di settimo milanese. Avevano la loro base nel quartiere di Quartogiaro. Il servizio. Presa la banda di Quartogiaro, cinque rapinatori sono stati arrestati dalla squadra mobile di Milano al termine di una tentata rapina all'interno di una ditta logistica di settimo milanese, durante la quale è stato esploso un colpo di pistola contro uno dei dipendenti. Il proiettile è andato a vuoto, i banditti sono scappati senza riuscire a mettere le mani sulla cassa con i contanti. L'episodio è avvenuto l'8 settembre scorso, gli investigatori erano già sulle tracce della banda di rapinatori, molti dei quali già noti alle forze dell'ordine e conosciuti proprio dagli agenti della squadra mobile. Tra loro Donato Montemitro, di 44 anni, che negli anni 90 era riuscito a sottrarsi all'arresto, dopo un colpo scappando a bordo di un carro funebre. Ben conosciuto anche Santo Lauro, 50 anni, che qualche anno fa ha messo a segno un paio di rapina in banca con la tecnica della bomba. Chiamava il direttore al telefono, gli diceva che nell'istituto c'era una persona con una bomba nella valigenta pronta a esplodere. Gli altri arrestati sono Paolo Rossi, di 55 anni, Salvatore Geracci, di 50, e Antonio Dapice, di 60. Quest'ultimo, come dimostra il video della ditta, è l'autore dello sparo e l'unico a cui è contestato il tentato omicidio. Nel mese di aprile, il fratello del titolare della ditta di settimo è stato rapinato di 17.000 euro, ha spiegato Lorenzo Bucossi, capo della squadra mobile. Sospettiamo che gli autori siano gli stessi, anche se si trattava di società diverse. Tutti gli arrestati hanno molti precedenti e provengono dalla zona di Quartogiaro. La rapina è fallita perché c'è stata la reazione di uno dei dipendenti. In quel momento Dapice ha puntato la pistola e ha tirato il grilletto tre volte, ma è partito soltanto l'ultimo colpo. Torniamo ad occuparci di Fabrizio Corona perché oggi sono arrivate le motivazioni dell'ultima sentenza che lo riguarda, datata 12 giugno scorso. Il Tribunale di Milano non ritiene di dover dichiarare Fabrizio Corona delinquente professionale perché la natura prettamente fiscale e le concrete modalità del reato per il quale l'imputato è stato giudicato colpevole non consentono di ritenere che egli viva abitualmente del provento dei reati. E quanto scrivono i giudici Guido Salvini, Andrea Ghinetti e Chiara Nobili, appunto nelle motivazioni della sentenza con cui l'ex fotografo dei VIP è stato condannato a un solo anno per un illecito tributario contro i cinque richiesti dalla direzione distrettuale antimafia. Una sentenza con cui erano state spazzate via le contestazioni principali, tra cui l'intestazione fittizia di beni su quei 2 milioni e mezzo di euro trovati in parte in un controsoffitto e in parte in Austria. Sono i ricavi in nero di Corona ed è inconsistente l'ipotesi secondo cui le somme sequestrate potessero avere un'origine diversa e fossero state in qualche forma a lui affidate da terzi in custodia o a fini di reimpiego. Questa è un'altra parte delle motivazioni. Il fatto che non sia stato giudicato delinquente professionale potrebbe agevolare Corona nella richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali. Si sono conclusi i lavori di riqualificazione e pedonalizzazione di via Marconi, quella che collega Piazza Diaz con Piazza del Duomo, a due passi dal Museo del Novecento. I lavori comprendono una nuova pavimentazione a raso e in granito, una nuova sistemazione del verde e nei prossimi giorni saranno posizionate anche delle panchine. All'inaugurazione del nuovo tratto ciclopedonale ha partecipato anche il sindaco Giuseppe Sala. Certamente questo è un altro recupero importante nel centro città. Ha commentato, ora dobbiamo concentrarci su via Mazzini che merita di tornare un po' più viva. Quello che faccio è un appello, molto dipende dal rapporto con il commercio. Non abbiamo una soluzione in tasca. Credo che con questa sistemazione di via Marconi e con quella futura di Piazza Cordusio sia rimasta proprio via Mazzini un po' l'ultima zona difficile del centro. A proposito di riqualificazione delle vie del centro cittadino, il sindaco ha annunciato che a breve avrà un incontro con i commercianti di via Montenapoleone perché, dice, sono convinto che senza chiudere alle auto vada comunque combattuta la sosta selvaggia. Cambiamo decisamente argomento, il Partito Democratico Lombardo lascia libertà di voto ai propri elettori al referendum sull'autonomia del prossimo 22 ottobre mentre i sindaci del partito, tra i quali ovviamente Giuseppe Sala e il candidato in pectore alle prossime regionali Giorgio Gori, si sono schierati apertamente per il sì. Intanto il governatore Maroni ha annunciato una serie di iniziative per propagandare la tornata referendaria e ha inviato una lettera ai Lombardi. A tutti i Lombardi sta per giungere una lettera del governatore Roberto Maroni nella quale si riassumono le informazioni relative al referendum sull'autonomia regionale del prossimo 22 ottobre. Il presidente Maroni si è affrettato a dire che si tratta di una comunicazione istituzionale che segue le disposizioni dell'Agicom, l'autorità sulle comunicazioni. Maroni ha annunciato che nel prossimo fine settimana riprenderà la grande l'attività promozionale nei confronti della tornata referendaria con varie iniziative sul territorio. Intanto il partito democratico Lombardo ha deciso di non dare indicazioni e di lasciare ai suoi elettori libertà di voto. La cosa ha colto di sorpresa un po' tutti, anche perché il candidato in pectore del PD alle prossime regionali, Giorgio Gori, si sta battendo per il sì al referendum fortemente voluto dalla Lega Nord. Il partito democratico ha ribadito che si tratta di una consultazione dai costi astronomici che assomiglia di più a un sondaggio che a un vero referendum. Siamo tutti per l'autonomia, ha detto il segretario regionale Alessandro Alfieri, ma si poteva trattare con il governo, così come sta facendo l'Emilia Romagna, senza mettere in moto la costosa macchina referendaria. Ci sono scelte e posizioni differenti dunque. Abbiamo deciso di lasciare libertà di voto e molti probabilmente diserteranno i seggi, per la prima volta dotati di apparecchiature elettroniche. La decisione va in senso opposto rispetto a quanto annunciato dai sindaci lombardi del Partito Democratico, a partire da Giuseppe Sala, che da tempo ha annunciato che voterà sì. Il referendum, sostenuto dal centro-destra, è invece stato bocciato dalla sinistra, a partire da articolo 1 e campo progressista. Lo stesso Giuliano Pisapia l'ha definito una farsa. Per Onorio Rosati si tratta di un referendum sbagliato, inutile e costoso. Il Cardinale Scola, adesso, che nella sua veste di delegato di Papa Francesco, ha imposto oggi il pallio a Monsignor Delpini, neo-arcivescovo di Milano. Lo stesso Delpini aveva chiesto al Santo Padre di poter ricevere questo paramento, simbolo di comunione con la sede di Pietro, prima del suo ingresso solenne in diocesi, che ricordiamo avverrà il 24 settembre prossimo. Anna Maria Braccini. La recita dell'ora sesta nel santuario San Pietro Martire di Seveso, nel giorno della solennità del Santissimo Nome di Maria, la presenza di tanti preti, in un clima di gioiosa, serena, raccolta partecipazione, fanno da cornice al rito, insieme semplice ufficiale, della consegna del pallio al nuovo arcivescovo, Monsignor Mario Enrico Delpini. A porlo sulle sue spalle, il Cardinale Angelo Scola, arcivescovo emerito e delegato in questo gesto da Papa Francesco. La lettura del mandato apostolico con il quale il Santo Padre conferisce il pallio a Monsignor Delpini, che aveva richiesto di poterlo ricevere prima del suo ingresso solenne in diocesi, richiesta accolta con lettera del 2 agosto, precedono l'imposizione del paramento nel silenzio. Un pallio che, per usare le parole dell'arcivescovo, ha almeno due contenuti che mi mettono un po' di paura, cioè il primo è che viene dalla tomba degli apostoli, quindi vuol dire dal martirio, quindi diventa un invito ad essere disponibili a dare tutta la vita fino al martirio, come hanno fatto Pietro, Paolo, i santi martiri romani e tutti i martiri della storia. L'altra cosa che mi mette un po' paura è il fatto che questo pallio mi ribadisce quello che è già dentro nella nomina, nella elezione, che siedo sulla cattedra dei vescovi che mi hanno preceduto. Due le componenti del pallio che indica con chiarezza il cardinal Scola. Quello che è certo è che è l'emblema della pecora che il pastore prende sulle sue spalle, che implica anche la disponibilità all'offerta totale di sé e della propria vita. Grazie a tutti. Grazie a tutti.